Bella a tutti ragazzi sono Ferro e oggi sono tornato qua con voi per fare la mia prima partita Dopo, vabbè la prima partita adesso, prima partita non si può dire Una partita dopo una settimana intera che non giocavo a Fortnite E niente raga vi ricordo di lasciar like e iscrivervi e niente ci vediamo in partita bella Ok raga eccoci in partita, io direi di andare subito all'autorità così che posso prendere il rampino e dopo uccidere tutti Ma raga ovviamente mi sono ricordato di dire che ci sono le auto che hanno aggiunto davvero poco Io ero al mare purtroppo non ho potuto provarle perciò le proverò oggi in questa mia prima partita Speriamo vada bene Allora mi fermerei a prendere subito questo fucile a pompa Ho preso l'elicottero e se n'è andato il tizio ma no Volevo fightare qualcuno e lui se n'è andato via così Eh vabbè dai raga ci sarà qualcun altro a uccidere Sento comunque il boss che è vicinissimo E una persona ancora più vicina Allora la persona raga è qua nei condotti eh Là sotto Sì per esatto Questi però sono tutti fake né Sono tutti testi Dov'è andato il tizio? È qua dentro Ok perfetto Restiamoci da scagnozzo Ok raga se trovassi Jules così potrei prendere almeno il rampino che alla fine sono venuto qua per questo Oh c'è un altro tizio Andiamo prima a killar lui Poi prendiamo Jules Dai tutti Tutti nei Poverino Non mi spammare Ok un altro distrutto Ma raga cos'è sono migliorato io in questa settimana? Scusate o è la gente che va più schifo? Scrivetevi uno sotto nei commenti perché davvero non riesco a capire Mi sembrano tutti scarsissimi Ok ritrovestiamoci Ma piuttosto in tutto questo tempo dov'è Jules? È da mezz'ora che sto provando a cercarla non la trovo Tanto qua ho sentito una bella cesta che mi fermo a prendere Niente Pistolina Vediamo se mi nerizza i nemici No non funziona così però Devo per forza uccidere uno scagnozzo e scannerizzarlo È l'unico modo Uccidiamolo Ritravestiamoci se no Arrivano le peggio scagnozzi a provare a uccidermi No No Lo devo perquisire Ma è un tizio quello? Non è un tizio Vabbè intanto allora Jules dov'è? Oh Eccola là sopra Ok perfetto Uccisa Direi di prendere Rampino Scheda Come sapete la Tomygan a me proprio Non piace più Zero proprio Riesco a non prenderla Talmente è diventata scarsa Anzi Prima sapete cosa vi dico? Prima addirittura di Di prendere la scheda Vado a pusharmi il tizio là sopra Non sembra un gran genio quello Tiriamoci questa No Vabbè Tanto rampino Facciamoci questo scudone Vabbè intanto che risalga Adesso ci metterò ancora un'ora Perché non so Se faccio usare rampino Ah io mi ho visto Ok perfetto E ora ragazzi Fa un po' più difficile No Niente Lui purtroppo La mira migliore è la mia Cosa ci posso fare? Ma davvero non mi entra un colpo? Cioè non sono dotato di mira Colpo ogni 5 mi entra Cosa ho appena visto? Vabbè Non ho parole Parole Aiuto 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 Ok perfetto Bella bro Posso entrare? Comunque regà pazzesco Ogni tanto non capisco Mio piccicchio di quelle laggate Che No non mi fa stare vicino Che sennò Capisci che sono Una persona normale Non uno scagnotto Tanto qua ottimo loot Direi Ok regà Perfetto Direi di andarmene subito Adesso andiamo a pushare tutti Ok regà Ora direi di andare a pushare Allora Non è che non vedo persone Ok perfetto Non ho appena vista una Ok regà Ecco la nostra vittima Questa qua non dura neanche un secondo Mi sa Oh dov'è? Oh Mi ha spaventato eh Dove scappi bro Ahia Oh ma c'è un altro Deve scappi bro Ahiaia C'è un altro Aiuto Aiuto Allenare Mi posso un po' Impegnare Allora Niente regà Purtroppo non trovo gente 5 kill siamo in 18 No ormai le 20 Non le posso più fare A meno che Adesso così a casa Mi appaiono tutti davanti a me Sennò purtroppo Non posso farle 20 Però dai in teoria Forse riesco a farne 15 eh 15 potrei ancora farcela Ci possono killare al massimo In 7 Ok uno là davanti Quello lì lo pusho subito Regà Che è coraggioso eh Questo però L'ho bloccato No dove scappi Vieni giù Basta scappare Oh basta Scappare davvero eh No mamma mia Cioè io stavo morendo davvero Da questa Regà mi devo tirare veloce I mini scudi E pushare Che sento un sacco di gente Che si spara Voglio provare a fare 15 kill Aia Ma perché la gente Se io non sto capendo questo Cosa vuoi fare Che è un altro qua davanti Questo lo pusho subito Ah lo tira pure un razzo Oh dov'è questo però Dietro le boot 26 Ma che fa Vabbè io che ho comunque Neanche morto che ho Vabbè un buon loot Vabbè grazie Non so cosa dirti però Devo fare le mie Le mie 15 kill Purtroppo bro Mi spiace Ok con la dell'elicottero Adesso Oh sono in due No no non killatevi per favore Niente l'ha killato Cosa balli Oh cosa balli Porta rispetto Guardami bro Guarda qua Allora siamo Sì allora Devo Devo killarne È un po' un problema C'è poca gente C'è poca gente Però forse davvero Ce la faccio ancora Allora Ok uno qua Perfetto Aiuto Non mi laserare in volo Oh Niente ragà Qua mi laserare in volo Davvero mi incavola Ecco Ma cos'è sto qua C'ha C'ha lane bot C'ha il soft aim È impazzito No vabbè poverello Però mi hai costretto Te però Non volevo così Ce l'ho Divastato Questo E niente Ragà purtroppo Non riesco a farle Neanche le 15 bombe Siamo Attro Com'è possibile In questa mappa Così grande Vabbè Purtroppo qua Ci ho pure provato Adesso dobbiamo solamente Provare a vincerla Oh mi ha rubato Uuuuh Regà Cosa Cioè mi ha distrutto Quest'auto Ok perfetto 50 Cioè non Io regà È la prima partita Davvero che faccio Intanto vorrei chiedervi Di guardare il mio ping Come faccio a aver zero di ping In partita Credo che distruggo Allora I miei avversari Zero di ping Ok perfetto Laserato Aiuto Aiuto Ok perfetto Un altro Andato Ne mancano due Dove saranno Saranno tutti i due Camperati in un box Io pronti a dire Aiuto Aiuto Arrivando ferro Oh Eccolo là Uno già sgamato Uno di questi No dai ma No ma Cioè regà Non buildano Questi cari non sono Son boss Allora Adesso devo O provare a blindarlo così Sennò volevo un caccia Il caccia era Magari un po' più divertente Devo fare qualche bel In genere Amico si builda No per quanto Però allora Tanto volevo Vittarti Almeno un colpetto Per capirsi Di bianco Se no No Ecco appunto Non vorrei regà Blindarlo E dopo Non Non one shot Sennò Regà ma è impossibile Da blindare questo Aiuto Basta Buildare Basta regà Ho deciso Vado Vado di piccone Vado Tac Un colpetto da R Anzi neanche Vieni qua Dove scapi Clown Anzi Un colpetto da R Io lo tiro Però Scusa No Niente Non ci posso credere Regà Cioè io ero qua pronto A picconarlo Lui cosa fa Si suicida Per non darmi La No dai Non è giusto Vabbè dai regà Niente Spero che questa Prima partita Vi sia piaciuta Dopo una settimana intera Comunque Volevo dire Che non è stato Per niente Più difficile Anzi mi sembrava Più facile Il gioco Purtroppo Non sono riuscito A provare le auto Che credo Che comunque Fossero bellissime Poi vabbè Sono pure Buggate Regà Cioè quello là Come avete visto Mi ha distrutto Quello che mi è venuto contro E niente Comunque regà Il video è finito qua Vi ricordo Iscrivetevi Lasciate like Se volete Seguitemi anche su instagram Vi lascio il link In descrizione E niente regà Un saluto a tutti Bella Ciao